Doveva essere così come la vedi e soprattutto la partecipazione doveva essere così come la vedi, quindi bambini, cittadinanza, una grande attivazione per creare un'opera collettiva. Il bello di tornare bambini va con degli simboli però che hanno un grande significato soprattutto per gli adulti. La fragilità di questa barca e la navigazione impossibile rappresentano tutti quegli approdi che non si riescono a fare nel nostro Mediterraneo e quindi oggi più che mai con i venti di guerra che soffiano in Europa dobbiamo essere sempre più accoglienti e accogliere la diversità. Oh 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 fire Wow, wow, wow Fire Oh, wow, wow Wow, wow, yeah, yeah Wow, wow, wow Wow, 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 yeah, yeah Grazie a tutti